Vabbè poi inizia a giocare, ricordiamo Wolfenstein The Old Blood, sta giocando Alessio con mouse e tastiera Mouse e tastiera, con tastiera molto sporca sempre, di cioccolato cacca proprio No, sono caccole Alessio, te lo c'è a spiare Sono caccole, no, non vomita di labbra, non mi vomita addosso Sono le caccole di Chiodice Ma qual è il problema? Viene da vomitare Fa sai che non tocchi il 3 e l'F5 Che cosa c'era nell'F5, di così importate da scacolare? Cioè, a lui, perché fa il F5 sul reload delle pagine Sai che è il F5 E' finito il gioco No, se ti sbrighi forse non fai scattare, hai scattato l'allarme C'è l'hai dietro Alessio Il cane, il cane, capisci? No, no, io non uccido cani Sì, ma non Ha detto, scheisse Vabbè Alessio, ma puoi andarci incontro seduto, stragliato per terra Cioè, veramente, sei proprio completamente antigioco totale, eh Wolfenstein Salutiamo Il protagonista si chiama Wolfenstein Si chiama BJ Blazkowicz, il protagonista, lei Ok Ti sei fatto sentire da tutti Correndo C'è il cane, adesso Colpisce Sono ancora vivo? Sì, ma adesso muori, adesso muori Perché dovrei morire? Ma non ha senso, dai Ti chiedono, tu ti chiede Falingar, dove possiamo vedere la tua ragazza Vabbè, sicuramente su U-Born Assolutamente E voi qui vedete quella precedente Esatto Vi presento Anche quella su U-Born Hai zero munizioni qua Qua? Sì Come faccio ad avere zero? La rotella devi usare Perché mi ha l'arma Il coltello, vai Non ho le armi, non ho preso niente, cacchio Questo ti ha compazzo davanti Ok, sei morto Tutto, gli hai fatto scaricare Gli hai fatto scaricare il caricatore interno E dopo anche il colpo in faccia l'ha dato Mamma mia, che noia proprio Che noia Kazuha vuole sapere Vuole che dimostri che è il pollice opponibile Non so se hai dito che cosa ho fatto Sì, mezzo alla ruota Stanno incredibili Vuole che dimostri che è il pollice opponibile Perché molti dicono che magari non è il pollice opponibile Magari No, ma Allora, io sono 1,70 circa C'è No Però, però l'ho beccato Non mi rompere le tue Ma non ci posso credere Hai visto questo? Spero che tu l'abbia fatto apposta Mi auguro No, perché ero Perché se non l'hai fatto apposta Hai aspettato esattamente Che passassi Che passassi per sparare Cioè veramente Per fortuna che non hai ingegnerizzato Te gli aerei a elica Perché quelli Quelli mitragliatrici Perché altrimenti L'istrugevi tutto tutte le volte Cioè, ogni volta che partiva Il primo combattimento Il primo dogfight Comunque io volevo dire Che io ho giocato Io ero un giocatore Ero un giocatore In un'altra epoca Semplicemente Nell'epoca alcuni Si stanno nei giochi? E' Umberto Rispondi tu Di lì che siamo in diretta Sì pronto Sono la segretaria Di adesso Pianesani In questo momento È in diretta È vero però Cosa? Vuole parlare assolutamente Con te in diretta Dimmi Umberto Umberto Angelini Di Bologna Dimmi Su Multiplayer.it Dove vuoi che siamo in diretta Su Sky Art Esatto Esatto Hai bisogno di qualcosa Di urgente Oppure Oppure ci diamo un taglio Visto che Ok ciao Non può Mi dispiace È a Rimini È la barca Quindi non è proprio Uno spettacolo Ad Alimini È a Rimini Quindi non è proprio Uno spettacolo Di panorama Dice Averotto una cosa intelligente Che mi fa pensare A una cosa Dice Mi sta cadendo Una connessione In continuazione Ma siamo sempre allo stesso punto Effettivamente potrebbe essere Una sorta di live Per chi c'è una connessione Di merda Perché alla fine Non va mai avanti Comunque tu vedi Sì però Alessio Cioè Non è messo a rotto il cazzo Ed è più proprio Veramente è Oltre ogni personale Rottura di cazzo Carica le armi poi Ricarica le Ancora? Sì Ma sono infiniti È possibile? No no Vado avanti? Guarda dove sta Hai visto dove sta? No non l'ho vista Sta laggiù in fondissimo Non lo becca Non mi beccherà mai Sì sì ti becca La granata via Ma da chi me l'ha tirata E da dove? Guarda da laggiù Te l'ha tirata Ma è impossibile C'avevo in mezzo Pippa astronomica Cazzo Ma vedi la cazzo di granata Ma spostati Ma perché tu l'hai vista? Te l'ho detto la granata No hai detto la granata E sono esploso È un po' diverso Te l'ho detto la granata Santissimo proprio Che rottura di cazzo Non lo passerò mai Esciranno sicuramente dal cerchio No vai ancora Dal cerchio Dall'arco A destra Guarda lì Guarda Sparagli Sparagli Non ti stai beccando nessuno Nessuno Sei morto? Quanto mi manca? Quattro Sono morto C'è quattro Guarda a destra Di sinistra non ci stanno Dov'è? Là Dov'è il cazzo di elmetto? No Vabbè guarda avanti Ma come fai a vedere un elmetto? Si vede un elmetto grigio Ma che è un elmetto grigio? Ma è impossibile Era una montagna grigia Con del metallo grigio E tu vedevi un elmetto grigio Mi fa scendere qua? Sì Sì Sei andato a capolinea Madonna che brutto Che scatta Che schifo Ha ragione Ma fa giusto perché fa schifo È fatto di merda Perché è registrato È pre-registrato A quattro frame A bassa risoluzione Ce n'è uno lì sopra Sulla cassa Là Guarda La vedi le luci? Madonna Fala prendervi da mangiare Perché mi ha riuscito Grazie a fare La fai 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 Sono morto È incredibile È incredibile E non so neanche perché sono morto Io l'ho detto che in acqua si muore Sono morto e non so perché Adesso non c'è più nessuno Non sei morto e non sai perché Hai visto Hai visto Che mi irritiscono con dei loot Nell'acqua Perché voglio Eh questa hai fatto Ma io resisto Ma ti svelo un segreto Guarda vai lì Vai lì e passati Accucciati No non ce la può fare Non ce la può fare È incredibile E mi son fatto confermare Che È meglio se mollo È meglio se mollo Non ci arriva fino a lì Non ci arriva fino a là Non scendi Ci sono gli allarmi Ci sono gli allarmi Quindi adesso risparano in mille Va bene però E che cosa faccio Affacciati Devi saltare sulle casse E poi sul puntile Prima la cassa Ma prima mi fai uccidere quello là No perché continuano ad arrivare No no uno me lo devi far uccidere Sono infiniti Alessio Vanno avanti sempre Continuano ad arrivare Prima sulla cassa Bravo Eh vabbè Eh vabbè Non mi carichi mai la cazzo di arma Alessio mai C'ho una granata Non è possibile Sono morto Sono morto Te l'ho detto che le granate Mi buttano in acqua Sì ma esci dall'acqua intanto No perché adesso muoio Io non so perché Muori perché ti sparano Che cazzo significa Non so perché Ma come nuoto Ma lo vedi che fa così Alessio Vabbè cioè Eh vedi Vedi che si muore in acqua Veramente Cioè hai Sei veramente Sei un nuovo step Dell'imparazzo Ti ringrazio Ti ringrazio Ti ringrazio molto Ti ringrazio Fai Non ho ammazzato Non ho ammazzato il capitano Dov'è L'hai colpito Non l'hai ammazzato Cioè pensa quanto sei una sega E ti hai scaricato l'arma C'è il tipo Ammazzalo Alessio Incredibile proprio Comunque è veramente incredibile Posso far notare Che per Alessio Se cadi da una barca Sei morto E un suo amico Prima gli ha anche proposto Un giro in barca Credo di sapere Come andrà a finire Ma io Non è male però Ma io mi aggancio Ma è l'inizio Di una sceneggiatura Di un film proprio Però Però me ne Cioè E lei ha anche svegliato Che vuoi fa Che vuoi fa adesso Non lo lancia più Non lo lancia più Ce n'avevi uno Pensi Gli metto un'arma Sto Sto Cambiando Ma perché poi giri la rotella Sempre nell'altro Senso Invece che girarla Quando c'è la parte Più vicina Spiegami Mamma mia Che sega Ma com'è possibile Ma l'hai visto tu Ma era di fronte a te Cazzo Dimmi che l'hai visto Cioè Alessio Hai visto Come ho fatto Incredibile Che brucio di culo Allucinante proprio Mamma mia Ormai sono veramente La gente 79 Cioè Incredibile Incredibile Vedrai che starà qua sotto Vai da uno che cammina L'hai visto? Sì sì l'ho visto L'ho visto Eh là Devi andare là No no non è lui Però devi andare lì Eh però io non voglio andare lì Ma è là che devi dannà È andato a testa Che lingua hai usato Dall'indale È lì che devi dannà Che cazzo dice Sembrava Sembrava arabo È lì che devi dannà Ho detto Poi dopo facciamo vedere Che abbiamo messo Il livello di difficoltà Easy Mentre non ci facevano A livello Jacopo L'abbiamo messo Esatto ma che sta a fare? Dice che Alessio E come l'uomo cambia Però c'è L'ho ucciso L'ho smattuto per terra E dopo tre minuti Si rialza e mi comincia a sparare Non è Non ha nessun senso Questa cosa Tanto ti stanno avendo Delle macchie rosse in fronte Perché mi sta esplodendo C'è una granata Vabbè mi hai detto Non puoi correre Devi stare abbassando Ma che stai facendo? Non stai facendo niente Allora io non ti devo ascoltare Le tue strategie Sono fallimentari Per definizione